Mi dicono che non si chiama Crispi, o meglio, si chiama Crispi ma è un istituto comprensivo. Ai miei tempi era una scuola media, punta e basta. Istituto comprensivo Crispi. Bravi, bella iniziativa. Ma saranno tutti così gentili quando fanno le giunte da Schifani al sindaco Cassì e non solo? Questo è l'argomento che oggi affronta Peppe Lizio in quella che è la sua ultima puntata di questa stagione. Lui stesso ve lo ricorderà. Sentiamo Peppe Lizio.